Buongiorno a tutti, l'argomento di questo seminario sarà appunto andare a vedere una panoramica degli attacchi che sono stati effettuati nel corso di questi ultimi anni per cercare di entrare in possesso di informazioni in toria segreta della blockchain, quindi appunto andiamo a fare una carrellata di attacchi per la deonimizzazione e in particolare ci concentreremo su quegli attacchi che sono stati effettuati utilizzando algoritmi di machine learning. Prima di tutto questo però facciamo una piccola introduzione, cerchiamo di inquadrare il problema. Innanzitutto è oramai risaputo che la parola blockchain è diventata famosa e importante a partire dall'anno 2008 quando Satoshi Nakamoto scrisse quel famoso paper in cui introdusse la prima criptomoneta, cioè Bitcoin. Le blockchain hanno tantissime proprietà molto interessanti, per esempio l'impossibilità di modificare i dati contenuti all'interno di essa oppure l'assenza di un'attualità centrale. Tuttavia oggi ci concentriamo su un'altra proprietà che è data quasi per scontata quando si utilizza la blockchain ma che in realtà come vedremo non è così presente, ovvero la pseudo-anonimità. Si parla di pseudo-anonimità perché in effetti quando si decide di far parte di una blockchain non è che bisogna dare informazioni personali come il nome o l'indirizzo, bensì riceviamo un address e questo address è semplicemente l'esce della chiave pubblica che riceviamo. Tuttavia già Satoshi Nakamoto aveva notato come questa proprietà è valida ma soltanto se si seguono delle buone regole di appunto di utilizzo della blockchain. In particolare, qua cito dal suo paper, lui stesso già diceva che si sarebbe dovuto generare una nuova coppia di chiavi per ogni transazione in modo tale da evitare un collegamento tra address diversi che appartengono allo stesso utente. Vedremo tra pochissimo quello che, cioè che cosa succede quando questa regola non viene seguita come già proponeva Satoshi. Prima di tutto questo però ho bisogno soltanto di ricapitolare quali sono i due modelli che sono utilizzati maggiormente al giorno d'oggi per memorizzare le informazioni all'interno della blockchain. Il primo modello che è il più famoso è l'Utxo model, che è quello utilizzato da Bitcoin. Utxo è un acronimo che sta per Unspent Transaction Output e in poche parole quello che succede è che ogni volta che viene inserita una nuova transazione sulla blockchain, allora l'input di questa transazione non saranno altro che output di una transazione precedente che è già stata inserita all'interno della blockchain. Possiamo vedere questa cosa che ho appena detto in modo teorico grazie a questo disegno, come vedete infatti qua c'è una transazione con un input e due output, qua c'è una seconda transazione con tre input e due output e infine c'è una ultima transazione i cui due input non sono altro che due degli output e delle precedenti transazioni menzionate. E quindi possiamo anche vedere che in un certo senso l'insieme degli Utxo è in continua evoluzione, in quanto ogni volta che una transazione viene inserita in una blockchain, alcuni di questi vengono consumati e altri vengono generati, cioè i nuovi output. È anche importante ricordare un attimo come funziona lo scambio di criptovaluta, perché a ogni input e ogni output è associato ovviamente un valore monetario in bitcoin, se siamo su bitcoin per esempio, però questo valore monetario va sempre speso completamente, cioè se alla nostra chiave sono associati cinque bitcoin, noi non possiamo, e se il nostro destinatario per esempio ha bisogno di soltanto tre bitcoin, noi non possiamo spendere soltanto quei tre bitcoin. Un po' come una banconota nel trading di tutti i giorni, noi dobbiamo dare questi cinque bitcoin completamente, tre passeranno al nostro destinatario, mentre gli altri due ci verranno riassegnati a un nuovo address che appunto prende il nome di change address. Le blockchain più importanti, perlomeno quelle che vedremo oggi, che utilizzano questo modello, sono bitcoin, monero e stacash. Il secondo modello è invece quello utilizzato da Ethereum ed è probabilmente più semplice da intuire per chi non ha troppa esperienza con la blockchain, in quanto l'account model può ricordare un po' più da vicino quello che accade quando si svolge una transazione bancaria. Perché questo? Perché nell'account model, intanto ogni account è associato un address, quindi c'è questa corrispondenza uno a uno account address, e a ognuno di questi account è anche associato un saldo. Il concetto di saldo è un concetto che invece non esiste su bitcoin. Qui prendiamo per esempio due account. Il primo account è che ha un saldo di 30 ITER, dove l'ITER è la criptomoneta di Echirium, mentre il secondo account ha un saldo di pari a 5 ITER. Che cosa succede se noi vogliamo scrivere una transazione che scambi 3 ITER dal primo account al secondo account? In modo molto semplice, se questa transazione viene confermata e inserita nel blocco, al prossimo aggiornamento, quindi al prossimo stato, il saldo del primo account scenderà di 3 ITER, quindi ne avremo 27, mentre il saldo del secondo account salirà a 8. Però questo mette in luce già alcune differenze. Innanzitutto non c'è bisogno di introdurre il change address, in quanto si sposta soltanto la quantità di criptomoneta necessaria, ma soprattutto, e in realtà è anche strettamente collegato alla prima motivazione, il saldo che non viene spostato rimane nel nostro account. Quindi in un certo senso siamo incentivati dal protocollo stesso a riutilizzare un account per più di una volta. A meno che non facciamo una transazione in cui spostiamo completamente il saldo dell'account, però è ovviamente una possibilità non così troppo comune. E quindi in un certo senso su Ethereum siamo incentivati appunto a svolgere più transazioni che possono essere collegate tra di loro in quanto tutti riterranno sempre lo stesso account. Quali sono le strategie principali che possono essere messe in atto per cercare di deanonimizzare le blockchain? Io quando ho elencate tre, non è in realtà una lista esaustiva, è soltanto la lista degli attacchi più utilizzati nel corso di questi ultimi anni. Il primo grande macro-categoria è quello di cercare di collegare gli indirizzi IP degli utenti con i loro address. Quindi questo è un attacco forse un pochino più informatico che in effetti non approfondirò nel corso di questo seminario, però è anche una branca molto studiata e molto interessante. Invece noi ci concentreremo maggiormente su questi ultimi due, ovvero l'utilizzo di algoritmi di machine learning per cercare di dedurre informazioni dei dati e infine, l'ho staccato perché in effetti non è propriamente il machine learning, ma si potrebbe anche analizzare il grafo della transazione della blockchain. In realtà vedremo alla fine di questo talk come la strategia 2 e la strategia 3, in un certo senso, convergono in un'ultima strategia che sembra essere quella più interessante per le pratiche di di-ananimizzazione. Quindi iniziamo il nostro viaggio all'interno di questo mondo, della di-ananimizzazione, della criptomoneta che è sicuramente quella più diffusa, cioè Bitcoin. Già Satoshi Nakamoto aveva notato che da come era strutturata la transazione fosse possibile cercare di raggruppare insieme address che appartengono alla stessa persona, ovvero che fosse possibile il clustering degli address. In effetti la prima strategia, che è quella più naive, però è anche quella che già Satoshi aveva osservato, ovvero che siccome tutti gli input di una transazione e di una transazione su Bitcoin ci potrebbe essere un qualsiasi numero di input, tutti questi qui apparteranno lo stesso utente, semplicemente perché è necessario firmare digitalmente ognuno di essi. In realtà questo non è più così vero, perché nel corso degli ultimi anni stanno nascendo sempre più protocolli di mixing, servizi di mixing, i più famosi forse coin join, che appunto permettono di mettere assieme tanti input appartenenti ad utenti diversi in un'unica transazione. Tuttavia il numero di queste transazioni è ancora molto limitato rispetto al numero di transazioni che chiamavano le classiche e quindi questo modo per fare clustering è ancora sicuramente più diffuso. Anche perché l'alternativa a questa tecnica è molto molto stengente, presenta delle ipotesi che sono molto difficili da soddisfare e in effetti è stata un po' dimenticata nel corso degli anni, però ve l'ho citata per completezza e ovvero in passato si provava a fare clustering in questo modo. Se in una transazione c'erano esattamente due output e uno di questi output era nuovo, quindi un address mai visto prima sulla blockchain, mentre l'altro address era un address che era già comparso, allora si poteva supporre che il nuovo address fosse il change address dell'utente che stava scrivendo la transazione, mentre l'altro address apparteneva invece a colui che inviava, che doveva ricevere i soldi, quindi i destinatari. Tuttavia, qua si nota subito che ci sono, cioè la prima ipotesi che è molto stringente è che si deve supporre che una transazione abbia esattamente due output e già qui non è così frequente che ce ne siano soltanto due. Poi si deve supporre che un address sia nuovo e che l'altro address sia stato invece generato in precedenza e infine, forse la limitazione più grande, si deve fare una grande supposizione nel pensare che l'address è nuovo sia sicuramente il change address, mentre l'address già composto prima sia quello del destinatario. Non c'è nessuno che ci dice che funzioni così. E in effetti questa strategia è stata, appunto, come vi dicevo, abbandonata quasi subito. Quindi tutto il clustering viene svolto seguendo questa prima strategia. Esistono delle aziende che si occupano di fare clustering di address. China Analysis è la più famosa in questo contesto. E loro non fanno soltanto clustering, ma cercano anche di etichettare questi cluster. Cioè cercano di capire a chi appartengono questi gruppi di cluster. In realtà a chi appartengono non voglio dire che scrivono nome e cognome della persona che possiede quegli address, perché questa è un'informazione che, a meno che quell'utente scrive pubblicamente, per esempio, non lo so, sulla sua pagina Facebook, allora è impossibile riuscire a risalire a questa informazione, a questo livello di dettaglio, però è invece più probabile che alcuni siti web, per esempio gli exchange, pubblicizzino alcuni dei loro address. Oppure si potrebbe anche inviare una transazione a un exchange per cercare di scoprire uno dei loro address in modo forse più banale. E quindi si riesce a categorizzare tutti gli address che appartengono al cluster dell'address identificato come appartenente all'exchange o a qualche altro servizio della blockchain. D'unico, noi chiameremo entità il proprietario di un insieme di address, quindi il proprietario di un cluster. Come vi dicevo, sfruttando le informazioni off-chain, Chain Analysis è riuscita a categorizzare un gran numero di questi cluster, però questo numero di informazioni non era evidentemente sufficiente per identificare e etichettare correttamente tutti i cluster, che sono centinaia di migliaia su Bitcoin. È un approccio basato sul machine learning sorprendentemente recente, secondo me, vista la semplicità dell'approccio, datato 2018 circa, consiste nel utilizzare algoritmi di supervised machine learning per cercare di categorizzare anche i cluster di cui non si hanno avuto maggiori informazioni. E quindi l'idea è molto semplice, prende come training sette, test sette e i cluster, divisi in una percentuale circa 70-30%, trena gli algoritmi, li testa sull'altra parte, li discriminano utilizzando qualche metrica tipo l'F1 score, e cerca di capire quali sono gli algoritmi che riescono appunto a identificare meglio i cluster. Questi algoritmi vengono poi testati e utilizzati sui cluster di cui non sono ancora informazioni, è stato scoperto che gli algoritmi con una maggiore... che funzionavano meglio erano la random forest e il gradient boosting. e in effetti identificavano correttamente circa l'80% dei cluster di cui ancora non si aveva informazione. Un approccio alternativo e più moderno forse, invece cerca di rappresentare la blockchain come un grafo bipartito. Io ora qui ho messo un disegno che dovrebbe in teoria spiegare questo, però comincio a farvela vedere da qua, perché qua si vede meglio la rappresentazione come grafo bipartito. Perché in effetti, se noi immaginiamo la transazione in questo modo, possiamo vedere che c'è una chiara struttura grafo dove i nodi quadrati rappresentano le transazioni, mentre i nodi circolari rappresentano gli input e gli output, quindi gli address. E il grafo è bipartito in quanto un address comunica solo con una transazione, la transazione sputerà fuori su output, alcuni di questi output verranno utilizzati come input di una nuova transazione, e così via. L'idea utilizzata è molto simile a questa, soltanto che questi, diciamo, nodi circolari non saranno address singoli, ma saranno entità, quindi saranno l'insieme degli address di un input, di un output, della transazione che appartengono allo stesso utente. E quindi si riesce a costruire questo grafo entità, transazione, entità, transazione, e così via. L'idea chiave non è ovviamente quella di utilizzare il grafo nella sua totalità, perché è gigantesco, non si riuscirebbe a fare molto, però l'idea che hanno avuto questi ricercatori consiste nel trovare dei sottografi con una particolare importanza dal punto di vista statistico. Questi che vengono chiamati motif, di cui non so sinceramente la traduzione in italiano, però in inglese questi sottografi si chiamano motif. Cos'è un motif? Cioè un motif, un n motif non è altro che un path, quindi un percorso di lunghezza 2 nel grafo. Scusate, di lunghezza 2n nel grafo. Quindi, per esempio, un 1 motif è un percorso di lunghezza 2 e quindi, per esempio, src è 1 a 1 è un path di lunghezza 2 e quindi questo è un 1 motif. invece se consideriamo src è 1 a 1 e 3 a 4 questo è un path di lunghezza 4 quindi è un 2 motif nel grafo. Quindi, questi ricercatori hanno considerato questi motif di grandezza limitata affinché non ci fossero troppi problemi computazionali e hanno cercato di identificare manualmente alcune delle features che ritenevano più interessanti. Features relative proprio al grafo quindi parliamo di features di centralità del grafo, features di, per esempio, peso del grafo o anche soltanto il numero di nodi con cui comunica un certo nodo del grafo. Quindi, appunto, features molto legate al mondo della teoria dei grafi. e tutte queste features sono state utilizzate per appunto classificare le entità perché qua lo scopo è lo stesso di quello di prima. Cioè, noi abbiamo il grafo ma vorremmo cercare di identificare queste entità di cui non ci è dato sapere a che cosa sono utilizzate. L'algoritmo utilizzato in questo contesto è stato il decision tree e l'approccio ha funzionato abbastanza bene nel senso che ha mostrato dei risultati interessanti circa nel 70% dei casi quindi leggermente inferiore a quello di prima però un approccio alternativo sufficientemente valido. Il vero problema di questo approccio è che non scala cioè il grafo va considerato come un modello statico. Si deve prendere il grafo dal giorno X al giorno Y e in quell'intervallo di tempo cercare di identificare il grafo ma questo non è quello che accade in realtà sulla blockchain perché ovviamente ogni volta che una nuova transizione viene aggiunta il grafo delle transazioni cresce di dimensione. Quindi c'è già un'ipotesi sull'intervallo di tempo considerato e poi il principale problema è che tutte queste features relative al mondo della teoria dei grafi vanno calcolate a mano cioè non c'è nessuno che ci dica automaticamente qual è la centralità di un nodo di un motif sono tutte features che appunto vanno calcolate in qualche modo con qualche algoritmo però questo dà un problema anche alla scalabilità del metodo perché se il grafo cresce sempre di dimensioni crescerà il numero di sottografie e quindi crescerà il numero di features e quindi in morale questo modello non è particolarmente scalabile in conclusione su questa parte di Bitcoin sarebbe molto importante che gli utenti cominciassero a utilizzare dei wallet che abbiano più a cuore la privacy degli utenti e per esempio Wasabi che mi sembra che sia stato lanciato nel 2019 è un wallet che appunto utilizza tecniche per potenziare la privacy degli utenti in modo tale da appunto evitare perlomeno il classing degli address in modo troppo banale una seconda blockchain che è particolarmente interessante è Zcash Zcash è stata è una forca di Bitcoin nata nel 2016 e aveva come obiettivo principale appunto quello di potenziare la privacy quindi sapevano anche loro che Bitcoin per la pseudo non è che funzionasse particolarmente bene su questa blockchain bisogna distinguere però tra due tipi di address ci sono questi address chiamati address T che non sono altro che una banale copia degli address Bcoin funzionano esattamente nello stesso modo però ci sono anche questi address Z address Z che sono privati e che non rivelano la quantità di criptomoneta che è chiamata Zc su Zcash che è stata spesa e questo è possibile grazie all'utilizzo dell'algoritmo di zero knowledge ZK che è lo stesso che ha citato Irene nel seminario precedente l'insieme della criptomoneta che è contenuta negli address Z forma quello che viene chiamato di solito shielded pool ok dato il fatto che su Zcash esistono due tipi di address T e Z allora è abbastanza intuitivo pensare che esistono quattro tipi di transazioni ovvero transazioni T a T dove gli input della transazione saranno address T quindi address come bitcoin e gli output saranno sempre address T poi avremo transazioni T a Z dove gli input della transazione sono address T mentre gli output della transazione sono questi address privati questa novità di Zcash e poi in modo navigo possiamo definire transazioni Z a T e transazioni Z a Z quindi a meno livello intuitivo sembrerebbe che analizzare Zcash sia più complicato che bitcoin ma in realtà se noi scendiamo ad analizzare i quattro vari sottomodelli di transazioni scopriamo che qualcosa si può riuscire ad ottenere innanzitutto le transazioni T a T sono identiche alle transazioni bitcoin quindi esse possono essere studiate analizzate categorizzate utilizzando gli stessi algoritmi di machine learning o le stesse tecniche di teoria di grafico descritto in precedenza quando parlavo appunto di bitcoin dall'altro lato abbiamo queste transazioni Z a Z che invece sono completamente private e da esse è molto difficile riuscire a starare delle informazioni e in effetti ZKashnark che è un algoritmo studiato oramai da tantissimi anni è sicuro funziona bene e queste transazioni non rivelano praticamente niente sugli utenti il problema di Zcash è che esistono queste transazioni chiamiamole ibride T a Z e Z a T che permettono di uscire e entrare dallo shielded pool e che cosa succede se noi riusciamo in qualche modo a collegare una transazione T a Z con una transazione Z a T cioè se queste due transazioni sono state fatte dallo stesso utente si riesce in un certo senso a diminuire la grandezza dello shielded pool e quindi viene diminuita la paragasi anche di tutti gli utenti che utilizzano Z cache soltanto per lo shielded pool esistono vari approcci per cercare di collegare T a Z con Z a T l'approccio più naiv possibile è che se l'address T utilizzato per la transazione T a Z è lo stesso address utilizzato per la transazione Z a T ovviamente quelle transazioni sono collegate anche se è un approccio molto banale purtroppo è un approccio che funziona abbastanza bene però sono state identificate anche delle euristiche un pochino più sofisticate che tengono conto per esempio della quantità di criptomoneta inserita e poi sottratta dallo shielded pool se è esattamente la stessa anche per tante cifre decimali probabilmente la transazione è svolta dalla stessa persona oppure sono state utilizzate anche features temporali per cercare di capire la frequenza con cui avvenivano queste transazioni inoltre altre analisi un pochino più complesse possono essere svolte tenendo conto di come funziona Z cache nel suo protocollo ma non ho tempo di approfondire questo aspetto quindi il morale della storia su Z cache è che è stato scoperto da questi ricercatori che la criptografia le tecniche criptografiche utilizzate funzionano e funzionano anche molto bene per evitare perdite di informazione ZK Pashnark è un ottimo algoritmo il problema è che se il protocollo non impone agli utenti di utilizzare questi algoritmi allora la parte che non li utilizza rischia di compromettere la sicurezza anche di coloro che invece utilizzano la blockchain proprio per la privacy il secondo problema è che circa l'80% delle transazioni su Z cache è in chiaro cioè sono T a T quindi praticamente Z cache nata per aumentare la privacy è diventata una coppia di bitcoin utilizzata molto meno di bitcoin in cui l'aspetto privacy è penalizzato da coloro che invece se ne fregano un pochino utilizzando appunto semplicemente Z cache come se fosse una coppia di bitcoin e una terza blockchain che invece utilizza il modello UTSO molto interessante è Monero Monero è datata 2014 non è una forza di bitcoin in questo caso e aveva come obiettivo anche essere quello di migliorare la criptografia per cercare di evitare perdite di informazioni in questo senso Monero protegge l'input della transazione non rendendolo in chiaro ma praticamente includendolo in una struttura dati chiamata ring insieme ad altre transazioni decoy quindi transazioni che sono veramente avvenute sulla blockchain ma che non appartengono a colui che sta firmando la transazione e vista questa struttura a ring quindi il fatto che ci sia più di un input per ogni transazione non ci dà la possibilità di utilizzare i CDSA come firma e in effetti vengono utilizzate queste ring signatus per firmare la ring signatus che vi ha detto qualcosa ieri Federico nel suo seminario e invece dal lato destinatario viene generato ogni volta un nuovo one time address quindi si ha questo tipo di protezione infine a partire dal 2017 anche la quantità di criptomoneta scambiata è tenuta nascosta e celata grazie all'utilizzo delle transazioni confidenziali e il loro protocollo è chiamato RingGT il problema è che nei primi anni di Monero neanche Monero obbligava gli utenti ad utilizzare queste tecniche criptografiche e quindi è successa la stessa cosa degli Zcash cioè che la gente gli utenti si iscrivevano a Monero e lo utilizzavano come se fosse una copia di Bitcoin e in particolare quello che facevano era non utilizzare i mixin per l'input della transazione cioè rendevano praticamente l'input della transazione che veniva speso era in chiaro in quanto era perfettamente identificabile il problema è che di nuovo esattamente come accade su Zcash partendo da queste transazioni perfettamente identificabili i ricercatori hanno costruito delle euristiche che permettevano di identificare anche le altre transazioni quelle che utilizzavano correttamente i mixin spiego meglio come questo è possibile con un disegno supponiamo di avere una transazione B che abbia come unico input l'output della transazione A e poi che ci sia una seconda transazione transazione C che invece utilizza correttamente un mixin e poi utilizza il suo vero input dall'analisi della transazione B noi siamo sicuri che l'input è l'output della transazione A in quanto c'è solo lui non c'è niente da dire questo è e questo è quello che accade il problema è che essendo identificato come input della transazione B ovviamente questo output non potrà essere identificato anche come input della transazione C in quanto ogni utx è spendibile una e una sola volta e quindi questa transazione che utilizzava correttamente il mixin si scopre praticamente come una transazione in chiaro in quanto siamo sicuri che il vero input sia questo qua che non ha nome in questo disegno e in questo dato questo problema l'unico modo per risolverlo e Monero l'ha fatto subito era quello di aggiornare il protocollo in modo tale da imporre a ogni utente di utilizzare almeno un mixin e poi questo numero è cresciuto nel tempo e nel 2021 se non hanno più cambiato ogni input di transazione dovrebbe avere esattamente 10 mixin quindi il ring ha una dimensione pari a 11 elementi poi in realtà non è stato solo questo aver migliorato il protocollo perché anche il fatto di celare l'input di transazione ha permesso di evitare altre perdite delle informazioni di cui purtroppo non ho modo di approfondire quello che è sicuro è che non sono stati svolti più attacchi alla blockchain di Monero dopo che Ring CT è stato inserito e quindi a partire dal 2018 Monero è considerata dal punto di vista della deanimizzazione la blockchain più sicura quasi inattaccabile perché utilizza queste tecniche criptografiche molto moderne e imposte dal protocollo e quindi la cosa secondo me più importante da ricordare è che se le tecniche criptografiche vengono veramente imposte allora il problema della deanimizzazione viene evitato quindi un ibrido come Zcash non funziona molto bene perché il machine learning o la terriera di grafi permettono di risalire informazioni mentre una blockchain che utilizza completamente la criptografia invece è molto più difficile da attaccare per le tecniche di machine learning infine in questi ultimi 5 minuti vediamo cosa è stato fatto per deanimizzare Ethereum Ethereum è una blockchain diversa dalle altre perché come detto in precedenza utilizza il modello account siccome utilizza questo altro modello non è vero che la transazione avrà una lista di input e una lista di output in effetti tutte le transazioni su Ethereum saranno composte esattamente da un input e da un output e proprio per questo motivo non si possono utilizzare tecniche per esempio di clustering per cercare di collegare insieme account posseduti da una stessa persona tuttavia queste tecniche di clustering possono essere utilizzate in modo leggermente più fantasioso forse ovvero il cercare di raggruppare in cluster gli smart contract sulla blockchain per cercare di capire quale categoria di smart contract è quella più utilizzata l'idea qua si basa sul fatto che in informatica è molto comune di utilizzare del codice e questa idea è forse più esasperata ancora sui smart contract quindi sulle blockchain in quanto un bug nel codice è molto probabilmente una perdita monetaria e questo consiste nel cercare di riutilizzare il più possibile il codice che è già stato inserito sulla blockchain in modo tale da evitare di scrivere da soli del codice che magari poi è fallato presenta dei bug e quindi dei problemi un modo con cui possono essere confrontati questi codici questi smart contract è per esempio utilizzando la distanza di Levenstein che è una distanza particolare che va a contare il numero minimo di caratteri che bisogna cambiare per trasformare una stringa A in una stringa B quindi vedendo uno smart contract come un'unica stringa possiamo andare a vedere quanti caratteri bisognerebbe in effetti cambiare per trasformare lo smart contract A in uno smart contract B questa tecnica di classing è stata utilizzata ha avuto di buoni risultati ed è stato dimostrato come la maggior parte dei contratti è stato scritto per generare dei token cosa che ci si poteva aspettare e poi in realtà dal 2020 in poi c'è anche un grandissimo numero di contratti che trattano di DeFi questo tema della finanziata centralizzata che verrà approfondito in uno dei prossimi seminari di questa mattina infine torniamo alla nostra domanda di partenza cioè come possiamo linkare collegare accanto diversi di Ethereum se non possiamo utilizzare tecniche di clustering come su Bitcoin questo lavoro è forse sorprendentemente recente perché è datato ottobre 2020 e utilizza quelli che chiamiamo i quasi identificatori che sono delle features ritenute particolarmente importanti tra queste features abbiamo il tempo di attività nella giornata quindi per esempio se un account è sempre attivo alle 3 di notte sto inventando mentre un altro account è sempre attivo alle 3 del pomeriggio difficilmente questi account sono posseduti dalla stessa persona poi si può andare a guardare il prezzo in gas il gas utilizzato da Ethereum per inserire transazioni sulla blockchain e se abbiamo due account diversi che utilizzano un prezzo in gas molto specifico forse direi addirittura uguale anche per le cifre decimali allora molto probabilmente questi due account invece sono posseduti dalla stessa persona e infine si potrebbe andare a vedere con chi comunicano questi account cioè se abbiamo due account che sembrano a priori completamente scollegati ma entrambi questi account hanno la stessa lista di disegnatari quindi comunicano con gli stessi utenti allora c'è una maggiore possibilità che questi account siano in effetti posseduti dallo stesso utente i ricercatori hanno utilizzato queste tecniche questi quasi identificatori prima da soli e poi hanno provato a utilizzare degli algoritmi che sono veramente lo stato dell'arte forse del machine learning perché qua si va a parlare di tecniche di machine learning applicate però ai grafi quindi questa è una nuova branca di machine learning che è nota come graph representation learning e appunto l'idea è che il machine learning classico non si adatta così bene sui grafi e quindi proviamo a costruire dei nuovi algoritmi che invece tengono conto del modello del grafo in realtà questa branca è nata per analizzare i social network ovviamente però si adattano anche molto bene alla blockchain in quanto come abbiamo visto ogni blockchain presenta questa struttura grafica e lo studio ha provato tantissimi algoritmi e quelli che hanno ottenuto risultati più interessanti sono questi due che vabbè non sto a approfondire anche perché non ho più tempo però quello che è molto interessante osservare è che questa teoristica ha mostrato dei risultati molto molto interessanti cioè ha identificato correttamente la maggior parte degli account legando l'uno all'altro se sono posseduti dalla stessa persona e secondo me la cosa ancora più interessante è che non esistono lavori troppo interessanti perlomeno che sono stati utilizzati sulle transazioni basate sul modello Ux tramite questa branca di algoritmi e quindi in realtà mi aspetterei che nel corso dei prossimi anni potrebbe saltare fuori qualche risultato più interessante anche tenendo conto del fatto che questi algoritmi sono veramente moderni cioè questi due che ho citato sono due algoritmi proposti a fine 2018 quindi sono veramente algoritmi dell'altro ieri per quanto riguarda la machine learning rispetto ad algoritmi più classici come random forest che invece hanno già la loro decina d'anni e infine ho soltanto inserito due slide che ricapitano un po' di bibliografie essenziali in caso vogliate approfondire alcune delle attacche che sono stati svolti e grazie a tutti per l'attenzione se avete domande sono disponibili grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti